Il matrimonio è un'istituzione senza altro in mutamento, come in mutamento è anche la struttura della famiglia. Però noi abbiamo un punto di riferimento molto ben preciso, che è la situazione economica del paese oggi, se parliamo dell'Italia. È ovvio che il matrimonio, proprio perché viene vista come qualcosa di molto impegnativo, è qualcosa che identifica un percorso di vita e una scommessa comune, una sfida quasi nei riguardi di un mondo difficile da affrontare, molto spesso oggi viene incubato e viene preparato da un periodo di convivenza che è una sorta di messa in prova, è una sorta di testazione della dinamica di coppia e soprattutto della possibilità di formalizzare questa scommessa. È un'avventura bellissima, perché come ogni tipo di scommessa comporta un'emotività, una sensazionalità ed è una scommessa per la vita. Prima c'era il cosiddetto periodo del fidanzamento, che corrispondeva in qualche modo a quella che oggi viene chiamata la convivenza. Ovviamente c'erano tanti totem, tanti tabù, c'era uno stile di vita diverso. Oggi la convivenza significa un fidanzamento più approfondito, per cui c'è assolutamente una libertà di scelta tra chi vuole approdare al matrimonio in maniera tradizionale e chi invece vuole testare questo periodo prematrimoniale. I dati che noi possiamo in qualche maniera leggere con quest'ottica ci dicono che non si rinuncia, anzi, si vuole la propria famiglia e il proprio matrimonio, ma dopo averlo ben testato e dal punto di vista economico e dal punto di vista di quella che è la stabilità affettiva.